buf, 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 buf una, la seconda, ho usato tre parole apostrofa molto, molto, molto bene ciao 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 grazie di essere qui con me oggi oggi ho pensato che sarebbe stato carino per una volta cambiare il tuo punto di vista per vedere le cose da un'altra prospettiva e quindi andrò a fare dei trigger delle carezze con questa inquadratura sperando che possa essere estremamente rilassante me la so tantissimo quindi andrò a fare anche un po' appunto di suoni dimmi se questo tipo di video ti piace, ti può piacere anche per un roleplay e metti mi piace, sai cosi? perchè così farò anche dei roleplay, io temo a me questa lista di questo tipo quindi comunica con me, metti mi piace, commenta con la tua parte preferita sappimi dire che io ti ascolto sempre e poi ci vediamo il punto di vista dell'iore a fare anche un momento per la tua parte preferita e poi andrò si non so ma Grazie a tutti. Grazie a tutti. Voglio truccarti anche un pochino. Questo è un blush che si chiama Chic2Chic. E ne prendo un po' con il pannello. E vado sulle tue guanze un pochino. Ok. 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 Ancora un pochino. Molto bene. Col di questo massaggino al viso. Ok. 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 Eccoci qua. Molto bene. Ok. 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 buf 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 poff poff poi adesso facciamo un po' di airtracing quindi scriverò un po' di parole in aria e se vuoi scrivimi nei commenti cosa hai capito e poi se ti piace questo trigger lo faccio spessissimo nelle mie live sulla piattaforma viola quindi ti consiglio di seguirmi anche lì trovi tutte le info giù in descrizione ok e poi vediamo adesso scrivo una frase più o meno e poi c'è un'altra parola e poi l'ultima parola ok molto bene ti piace questo stelo stellato? cielo stellato spread vediamo vediamo ok questa diciamo è il nome di un oggetto di un particolare periodo dell'anno eccoci qua eccoci qua è composto da tre lettere una 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 e la seconda ho usato tre parola apostrofa apostrofa e l'ultima parola l'ultima d'ultima l'ultima l'ultima parola anche questa diciamo che è un oggetto che uso è il canale ok sono ispirata a tutto ciò che vedo l'intorno ok, quindi l'ultima queste sono quattro parole terza parola guarda, eccoci questo si chiama ear tracing nell'aria io lo amo tantissimo, mi fa venire un po' atto di brividi un altro trigger sia visivo che uditivo che secondo me è molto bello visto da questo punto di vista sono quelli che mi amiamo gli orecchimi della mamma di Carlotta grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. 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 A follow daylight così, stupendo, stupendo, aspettate, dopo averlo cercato ovunque l'ho trovato, ok? E voilà, oggi lo amo. Segui la luce. Segui la luce che si allontana e si avvicina. E adesso, guarda, guarda, guarda questo, la fonda del mio dito, ok? Ok, quella che sto illuminando e guardando questa punta, cerca di evitare invece di guardare la luce. E qui stiamo facendo un trigger periferico, visto che me lo chiede da spesso. Ok, concentrati sempre, ok? Ok, concentrati sempre, solo qua. Adesso invece direttamente guarda fuori dallo schermo. può essere di qua, può essere di qua, può essere di qua, può essere sopra, può essere sotto, ma non guardare lo schermo. Mentre io, mentre io passo la luce sui tuoi occhi, non guardare, non guardare, non guardare, non guardare, concentrati sul fatto di non guardare lo schermo, di evitare di guardare la luce. Ok, questo, questo dovrebbe farti venire un sacco di bludini. Ok, molto bene. Adesso facciamola comparire, scomparire. Comparire, scomparire, scomparire. Ok? Diamo veramente tanto questo trigger. Tantissimo. Bene. Riammettiamo un pochino le luci. Ok? Giusto un pochino. Trovo che questa visuale sia stupenda. Sì. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un pochino di massaggio, molto bene, molto, 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 molto bene. Grazie a tutti. Ora per finire il video ho preso un altro pennello che è questo. E andrò a spenellarti il viso mentre ti canto una canzone della buonanotte che canto quasi sempre appunto sulla piattaforma viola. E che mi fa piacere farti ascoltare anche qui ogni tanto. So che ad alcune persone piace molto il canto. Non sono bravissima, faccio quello che riesco. Forse avrete sentito questa canzone da Leggita Girls, ma vi assicuro che non è loro. Io la cantavo anche da piccola, piccola, piccola nel coro del conservatore, quindi... Non sminuite questa ninna nanna per piacere a molta più storia di un film della Disney per quanto carino. Quindi si chiama Alananita. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. A la nanita, la nananita, ella nanita, ella Mi niña tiene sueño, bendito sea, bendito sea Fuetencita che corre, clara e sonora Lo enseñar quien en selva, cantando llora Calas mientras la cuna, se balancea A la nanita, nanana, nanita, ella A la nanita, nananita, ella nanita, ella Mi niña tiene sueño, bendito sea, bendito sea A la nanita, nananita, ella nanita, ella Mi niña tiene sueño, bendito sea, bendito sea Y yo pienso propio Pienso propio Pienso propio Pienso propio Lora De Abbasar Le Luce e augurarti augurarti augurare a te a te a te a te buona, 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 buona notte but so crazy buona, notte di, di buona, 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 bu Good night Sweet Dreams Dreams Buenas Buenas noches Dulces sueños Buen nuit Buen nuit Buen nuit Vete Show your hair Good night Buen nuit Buen nuit Buen nuit